Il lattosio è lo zucchero contenuto nel latte. Tutti sanno che il lattosio viene digerito dalla lattasi. La lattasi è l'enzima intestinale che digerisce il lattosio in glucosio più galattosio. Quello che molti non sanno è che la lattasi è attaccato ad un altro enzima, la floridin idrolasica. La floridin idrolasica digerisce gli spingolipidi del grasso del latte in zucchero più ceramide. Quindi, quando parliamo di lattasi intestinale, dovete immaginare questa enzima come un complesso enzimatico fatto da due enzimi, la lattasi che digerisce il lattosio e la floridin idrolasica che digerisce gli spingolipidi contenuti nel grasso del latte.